Siamo con il direttore Marco Ingino, stiamo parlando di quel che accadrà domani allo Stato Francioni di Latina. L'ultima di campionato vedrà sfidarsi in Latina proprio contro l'Avellino in una sfida come stiamo dicendo dal sapore di passato ma anche un po' di futuro perché questa partita potrebbe essere un bivio importante per questo finale di campionato. Marco sarà una partita che si giocherà non solo sul campo ma anche nelle gambe ma anche nella testa dei giocatori. Buccaro lo sa benissimo, ne ha parlato in conferenza stampa. Secondo te, prima di sentire quel che ha detto lui, ha anche parlato della carica che gli ha dato il presidente De Cesare che si è visto allo stadio prima della partenza per il mini ritiro. Che squadra vedremo in campo dal punto di vista mentale e caratteriale? Ci sarà un po' di tensione, di pressione nei biancoverdi soprattutto tra i più giovani? Sì, la tensione e la pressione già si sono avvertite nel corso delle ultime 3-4 partite però l'Avellino ha in organico calciatori di una certa esperienza che si sono trovati spesso in queste situazioni e possono prendere per mano i più giovani, penso a Viscovo, penso a Betti e Parisi che stanno disputando un'ottima stagione, penso allo stesso Tribuzzi. Under che soprattutto in questo girone di ritorno non hanno fatto più sentire quella differenza, quel gap che c'era con gli over. Finalmente l'Avellino è diventata un gruppo, una squadra equilibrata con pochi punti deboli. Qualcosina di vulnerabile ce l'abbiamo ancora però rispetto alla girone di andata è oro. Per quanto riguarda invece De Cesare, la sua visita direi che assume un po' anche i contorni della scaramanzia. È un rituale che si ripete dalla gara vinta proprio alla Nusei, quando il patron insieme a Claudio Mauriello raggiunse lo spogliatoio, fece un discorso improntato un po' al cercato di stare concentrati, sì, ma non esasperati per far calare un po' la pressione. Anche perché queste sono partite che non c'è bisogno di caricare, ma i calciatori sanno bene quello che si giocano e l'importanza della posta in palio. Quindi dobbiamo stare domani assolutamente attenti a non cadere nelle provocazioni perché consapevoli che abbiamo l'organico più forte del girone, consapevoli che con cinque sostituzioni si dovesse anche mettere male nel primo tempo, nel secondo potremmo stravolgere tutto. Buccaro in conferenza stampa ha parlato proprio di questo, dell'aspetto mentale e anche della visita di De Cesare. Come giustamente tu sottolineavi, anche Buccaro ha caricato la squadra in modo molto equilibrato. Andiamo a sentire cosa ha detto. La stiamo preparando bene, sappiamo che è una partita molto insidiosa, sarà difficile, ma cercheremo di fare il possibile, anche perché siamo spinti da un intero popolo che si è ritrovato l'entusiasmo, si è unito, si è compattato, tutto il popolo irpino, quelli che verranno domani, più tutti gli altri che purtroppo non potranno venire, ma faranno il tifo da casa per noi. De Cesare, diciamo, ve l'avevo detto già, nelle ultime settimane viene, fa l'imbocca al lupo alla squadra, carica la squadra a modo suo in maniera molto equilibrata, equilibrata, quindi è di grande supporto in questo momento per tutti. Per quanto riguarda noi, l'ho detto prima, noi dobbiamo pensare solo alla nostra, non abbiamo altri risultati che quello della vittoria. Dobbiamo provare a vincere, non dobbiamo pensare a cosa succede sull'altro campo. In questo momento il nostro obiettivo è solo quello di fare i tre punti a Latina e poi vedere cosa succede. Ma non abbiamo il piano partita, è quello che dobbiamo fare in campo, sia come gamba e come tattica, tra virgolette. Non possiamo aspettare, non possiamo fare, dobbiamo cercare di vincere la partita, perché leggendo anche le dichiarazioni agli avversari in questo momento, non in Latina, ma l'altra squadra pensa solamente alla nostra partita, quindi sicuramente loro già sanno di vincere facile lì, non lo so. E Bucaro ci dà il là per parlare anche dell'altra squadra, come la chiama lui, il Lanusei dei Miracoli, davvero, perché questa squadra, bisogna dire, è stata fortunata nel corso di questa stagione ma è stata anche molto caparbia, molto capace di restare in vetta alla classifica di serie di Gironi G praticamente per quasi tutte le 38 giornate. Onore a loro, certamente si sono comportati bene, però certamente non è una squadra abituata a questo tipo di tensioni, Marco. Qualcosina per domani possiamo aspettarcela? Io me lo auguro, anche se onestamente ho visto dal vivo la Lupa Roma, ha due o tre individualità, però ha tanti punti deboli come organico e sicuramente tra le squadre meno attrezzate del girone. Si può in ogni caso confidare anche nel terreno di gioco che non è proprio perfetto, quello della Lupa Roma, è per una squadra che si deve difendere. Se il Lanusei, che ha sempre questo problema a Bernardotto, ancora non si sa se gioca oppure no, o se lo preservano per un eventuale spareggio, se passano i minuti, sai, l'avversario prende coraggio, magari qualche difficoltà potrebbe incontrarla. Ma pensiamo, come ha detto Bucaro, a noi, poi al novantesimo, guarderemo con maggiore attenzione a che cosa ha fatto la Lupa Roma con il Lanusei. Facendo attenzione che sia davvero finita la partita, perché i minuti finali diciamo che sono cruciali, abbiamo rinominato quella zona, la zona Lanusei. Quel che dicevo però, Marco, probabilmente ci sarà anche un po' di pressione intorno a questo gruppo, a questa squadra. Sì, dicevi bene, è un Lanusei che da quando noi abbiamo vinto in casa loro gli abbiamo portato un po' di pressione, non a caso ogni tanto hanno perso questi colpi, ma va anche detto che hanno fatto dei risultati che non sono poi dei flop, assolutamente. Parliamo di qualche pareggio, parliamo della sconfitta a Trastevere che ci può stare, parliamo di una squadra che ha tenuto un andamento, un trend veramente costante. Cioè, il loro campionato è straordinario, il nostro gironne di ritorno è stratosferico. E queste 13 vittorie nostre in 14 partite hanno vanificato per adesso l'impresa del Lanusei, che in questo sono d'accordo con Gardini, è una squadra che ha già vinto il suo campionato, quindi secondo me può anche accontentarsi a questo punto, è vero che l'appetito viene mangiando, ormai loro non se la danno ancora per vinta, però la pressione altro che se la sentono, e la sente in particolare Aldo Gardini che ha già perso due campionati, più o meno nelle stesse condizioni. E noi, per non farci mancare nulla, siamo andati a sbirciare in casa del Lanusei, grazie al collega Francesco Manca dell'Unione Sarda, che ci ha raccontato un po' qual è l'atmosfera in terra sarda. Sentiamolo. Le frasi di rito nascondono una certa tensione nella marcia di avvicinamento ormai quasi terminata al match clou della stagione. Il Lanusei, ospite della Lupa Roma, tenterà di portare a casa il risultato per dare un'ulteriore soddisfazione ai suoi tifosi e non inciampare sul finale di una stagione comunque da ricordare. Di particolare te lo puoi immaginare da sola, chiaramente c'è grande attesa, gli ultimi risultati, insomma si sperava di non dover arrivare a questo punto, comunque avendo sette punti di vantaggio, però la sta prendendo anche con grande filosofia. Come andrà domani, lo direi, il campo e poi si terranno le somme. Comunque la squadra ha fatto un campionato straordinario. Certo, qualche tifosi l'ho sentito e dice mannaggia, ci avevamo fatto la bocca buona, però diciamo così che prevale nella maggior parte dei tifosi l'ottimismo, ecco. Comunque l'ottimismo è anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa, in ogni caso qualcosa di straordinario. Nessuno in terra sarda nasconde la voglia di vincere. L'idea dello spareggio comincia ad allettare i tifosi che credono fermamente in un trionfo contro la squadra di Amelia. Diciamo che la maggior parte delle persone che ho sentito è convinta che comunque come minimo si arriverà allo spareggio. Non perderà il campionato domani, domani non si vincerà e si andrà come minimo allo spareggio. Questo te lo posso, cioè dagli umori che ho sentito in giro, questo è quello prevalente. Questo è quel che ci raccontava il collega dell'Unione Sarda, sempre molto disponibile ed anche molto dentro la notizia, perché è lì attento a sentire gli umori della gente di Lanusei. Cosa ci dobbiamo aspettare per questo duplice evento sportivo? Quel che accadrà a Latina, quel che accadrà a Roccapriora? Io mi aggancio proprio alla frase che mi ha colpito di più del collega, non perderà domani il campionato in Lanusei, vuol dire che comunque lo perderà. Se è così mi sta bene pure a me, facciamo questo spareggio, per noi poi diventerà la quarantunesima telecronaca, daremo anche a qualche altro la possibilità di salire sul carro dei vincitori. L'importante è gioire tutti insieme per questi colori. Una possibilità in più, dai. Assolutamente. Allora Marco, ricordiamo gli appuntamenti con Sport Channel, Airpia TV e User TV domani, anche se i nostri telespettatori che ci hanno sempre seguito stanno benissimo. alle 14.30 circa partiremo con questa diretta, con il cartello e insomma trepideremo. I contenuti del capo? Con tutti i contenuti, come sempre Francesco Guarino sarà con me, domani ci sarà anche qualche altra sorpresa, però non la sveliamo ancora, stiamo allestendo un po' tutta la macchina abbastanza oleata con i nostri mezzi, ma soprattutto con la nostra passione. Ovviamente chi rimarrà qui ad Avellino cercherà di carpire le emozioni di fine gara ed anche ovviamente lanciando un occhio a quel che succederà a Rocca Priora, per cui restate collegati con Sport Channel e Airpia TV per sapere tutto quel che accadrà domani, in questa giornata cruciale, per cui io ringrazio il direttore Marco Ingino con lui appuntamento. Grazie a te. A domani, ringrazio Michele Imperiali e Regia, ma soprattutto voi per averci seguito. Preview finisce qui, restate su Sport Channel.